Salve, sono Angela Leone della Beable ed oggi vedremo insieme come configurare l'SMTP autenticato in Zimbra. Buona visione! Adesso andiamo a configurare l'SMTP autenticato per Zimbra. Quindi, logghiamoci in Webmin alla porta 9999 dell'indirizzo IP del server. Inseriamo le credenziali di root e logghiamoci. Nel campo di ricerca inseriamo SSH2 per accedere al terminale e logghiamoci anche qui con le credenziali di root per andare poi ad eseguire lo script. Posizioniamoci nella cartella script e assegniamo i permessi allo script stesso per poi eseguirlo. A questo punto inseriamo il nome del dominio, l'SMTP, l'username dell'SMTP e la password. Questi dati ci vengono forniti durante l'acquisto dell'SMTP autenticato. Attendiamo l'esecuzione dello script. Per verificare il corretto inserimento accediamo alla sezione admin di Zimbra logandoci all'indirizzo IP in HTTPS alla porta 7071 accediamo alle impostazioni del server, quindi MTA e vediamo l'SMTP inserito. Grazie a tutti.